Allora benvenuti, vedremo ora come fare ad usare GIMP per produrre delle semplici animazioni GIF che possono essere poi anche importate su Second Life La teoria è semplicemente quella di produrre una serie di layer partendo dal basso verso l'alto chiamarli con frame 1, 2, 3, 4, 5 eventualmente con la durata che è importante in modo tale da produrre la GIF desiderata sovrapponendo queste immagini quindi cominciamo, facciamo un new e generiamo una prima immagine tipo questa 640x480 in cui c'è il background che chiameremo frame 1 e poi possiamo scrivere 1000 millisecondi in questo modo vuol dire che questa immagine durerà per un secondo e qui proviamo a scriverci ad esempio qualcosa ho usato la matita per scriverci A ora aggiungiamo un altro frame quindi come facciamo ad aggiungere un frame? andiamo qua, creiamo un nuovo layer con un layer con il background questo secondo layer lo chiamiamo frame 2 1000 millisecondi e gli mettiamo qua un'altra lettera B e poi facciamo la stessa cosa con un terzo frame dove metteremo qui la lettera C e lui lo chiameremo frame 3 1000 millisecondi ora questo punto è presto detto, è presto fatto perché basta andare nei nostri filters andiamo in animation e qui abbiamo il playback il playback è praticamente cosa farà comparire una finestra questa vedete in cui vedete fa vedere le tre frame da cui è composto e possiamo fare il play quindi facendo il play vedete che compare prima la lettera A poi il B e poi il C quindi questo è diciamo la parte che ci interessa prima di generare veramente l'animazione basta che andiamo sempre nei filters facciamo animation e poi facciamo optimize perché dobbiamo ottimizzare la dimensione per il GIF perfetto allora una volta che ha finito l'optimize noi possiamo poi passare ecco finita l'optimize possiamo passare a niente generiamo direttamente l'export in export to e generiamo l'export in lo chiamiamo in modalità diciamo animated punto GIF allora nel momento in cui lui vede che si esporta in modalità GIF possiamo esportarlo come animation quindi a questo punto facciamo l'export e quindi abbiamo l'export desiderato ora questo export sarà appunto un GIF che può essere visualizzato tranquillamente come in un browser web vedete che il GIF prodotto animated punto GIF è molto piccolo perché è stato ottimizzato e occupa soltanto 5 KB se lo trasciniamo su un browser quindi se lo visualizziamo vedete che ci compare l'animazione desiderata e quindi questo è un GIF che possiamo mettere anche su un sito web ma a questo punto quello che ci interessa è di metterlo in Second Life quindi bisogna convertire il GIF in un'opportuna immagine valida per Second Life allora abbiamo bisogno di un strumento opposto che ci permetta di trasformare facilmente un GIF su verso un'animazione SL quindi GIF to SL dove 2SL animation questa è la parola chiave giusta a cercare in Google facendo in questo modo si trovano dei siti dei blog dove descrivono e contengono questo programmino utilissimo ad esempio qui in Second Life mitzi.com trovate vedete qua c'è proprio una pagina dove vi spiega come funziona tutto il meccanismo di GIF e in particolare vedete che c'è questo preziosissimo GIF 2SL animated texture program e questo programmino semplicemente è versione 0.6.exe una volta lanciato quindi praticamente viene lanciato ok allora quello che abbiamo è quello dobbiamo lanciare semplicemente questo eseguibile GIF 2SL animation anche dallo zip volendo e compare quindi la possibilità di caricarsi un GIF di questo GIF gli carichiamo eccolo qua gli mettiamo l'animated GIF che abbiamo appena fatto quindi andiamo e lo specifichiamo come vedete lui ci fa vedere il GIF e a questo punto per ottenere l'uscita di questo GIF basta cliccare qua output e vedete che viene prodotto un punto JPEG che è fatto come vedete in modo tale da poter essere a questo punto per animarlo effettivamente occorre poi portare questo JPEG in Second Life assieme a un script specifico che si trova sempre da questo sito e questo script eccolo qua lo potete scaricare sempre di qua si chiama automatic GIF to SL script si chiama ok e a questo punto potete andare in Second Life caricandovi i due il JPEG e questo script ecco vedete che adesso ho preso l'immagine che mi ha generato questo generatore e lo scarico su Second Life con questo nome strano 2.2.10 faccio l'upload dopodiché cosa devo fare devo crearmi ecco è arrivato qui devo crearmi un cubo quindi faccio creo un cubo dentro questo cubo ci devo mettere sicuramente dentro il contenuto questa immagine e in più ci devo costruire un nuovo script e dentro questo script ci andiamo a mettere lo script che abbiamo scaricato ecco allora con un po' di pazienza abbiamo fatto la copia dello script e abbiamo fatto copia e poi rincolliamo qua tutto lo script questo qui che abbiamo preso da prima e lo salviamo ok allora a questo punto vedete che abbiamo esattamente quello che ci aspettavamo e cioè l'animazione delle tre lettere anim2.2.10 fa questa animazione e vedete fa tutte le tre cose ok passando attraverso questo script in realtà abbiamo perso la temporizzazione quindi per ricostruire la temporizzazione dobbiamo andare a cambiare il nome vedete che quindi il nome è scritto 2.2 che sono praticamente due righe per due colonne e poi andiamo a mettere anziché 10 se gli mettiamo 100 vedete che va più più veloce in realtà quindi se vogliamo rallentare la nostra cosa possiamo metterci 1 e 1 dovrebbe essere più o meno come prima cioè 1 vuol dire un secondo e vedete che abbiamo l'animazione che viaggia e che cambia ogni un secondo quindi questo in generale è uno strumento potentissimo questa tecnica che avevo detto con Gimp che vi permette di fare qualunque tipo di animazione io ora l'ho fatto solo su delle scritte brutte però potete farla su dei loghi su delle immagini o dei piccoli film che avete magari separato nelle singole immagini componente basta andare in Gimp costruire una serie di livelli nei layer e dopodiché con questa operazione potete avere l'animazione che volete ricordate che ovviamente non potete fare troppissime immagini perché il GIF non può essere più grande di un tot altrimenti diventa anche pesante quindi si possono fare animazioni addirittura anche dei brevi film ma di non più lunghi di pochi secondi diciamo suppongo non più di 5 6 10 secondi allora per questo è tutto spero che vi abbia fatto piacere vedere come si fa a produrre un'immagine animata GIF con Gimp e come portarla con questo trucchetto su Second Life grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti